Sindaco, allora in maggioranza ci sono delle frizioni ormai ricorrenti già da diverse settimane, qual è la situazione? Si avvicina la data del termine del mio mandato e quindi questo scatena la gara alla successione a chi verrà dopo Luciani, dopo il periodo 2011-2021 che dovrebbe essere quello naturale. Quindi diciamo che è una cosa abbastanza fisiologica. La cosa che mi rammarica è che ho chiesto ad alcuni consiglieri di venire a dare una mano in giunta e quindi ho offerto un ruolo di primo piano perché in quest'ultimo anno dovremo fare tante cose, le dovremo fare bene come le abbiamo sempre fatte e invece ci sono delle resistenze proprio perché si continuano a fare dei giochini, si continua a pensare più al futuro che al presente. Io sono concentrato sul presente, sono concentrato a migliorare la città, a realizzare quella mia visione di città che ho manifestato ai cittadini durante la campagna elettorale e lo farò fino all'ultimo giorno, fino a quando potrò. Con Campli come sono i rapporti? I rapporti sono diciamo normali, abbiamo avuto una diversità di vedute, questo ha comportato il suo allontanamento dalla giunta o avevo anche fatto un'apertura per un suo possibile rientro perché non c'è nulla di personale, lui è un bravo professionista, è stato un bravo assessore, le divisioni sono dal punto di vista strettamente politico, avrei voluto vedere dei segnali da parte del suo gruppo che andassero verso una maggiore distensione, invece a mio avviso questi segnali non ci sono stati, quindi per ora penso che la situazione non si possa ricomporre.